Commozione in città per la scombarsa di Francesca Mugavero, la giovane mamma di 45 anni strongata da un aneurisma cerebrale. Da alcune settimane lamentava forti mal di testa e lo scorso fine settimana si era sentita male e aveva perso i sensi mentre si trovava a casa. Di corsa era stata portata in ambulanza all'ospedale, dove fin da subito si era evidenziata la criticità dell'emorragia provocata dall'aneurisma. Il personale sanitario ha attendato l'impossibile e nel tardo pomeriggio di ieri è stata dichiarata la morte. Una tragedia che ha scosso la comunità nissena, dove da giorni, anche sui social, si erano stretti intorno a lei. Francesca, conosciuta e apprezzata per la sua attività lavorativa in uno studio dentistico, lascia i suoi due piccoli figli. I funerali verranno celebrati domani a San Paolo alle ore 15 e 30.